La dottoressa Placido! La dottoressa Placido! Che succede? Che è successo? Lorenzo, non respira. Posso andare da Lorenzo? Sì, ma in carrozzella perché sei ancora troppo debole. Ok. Ti aiuta papà? Papà? Ma figurati se mi faccio vedere da Lorenzo in carrozzina. Che sta succedendo? Non respira, dottoressa! Come non respira? Resta fuori. Tutti fuori. Tutti fuori. Forna, forza! Detibrillatore! Subito, caloci! Sara! Sara! Apri, apri, dottore. Sara, vieni qui! No! Libera! Luisa! Esci! Uno, due, tre! Dottoressa, è piatto! Sara! No! Viper! No! 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 Grazie a tutti